Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione in questione riguarda la realizzazione del nuovo ponte del Ticino a Vigevano, un'opera che è stata finanziata da parte dello Stato per un importo di 51 milioni di euro, doveva essere conclusa entro dicembre 2014, oltre il fatto che quest'opera non è stata conclusa, siamo arrivati quindi al 2019, ad oggi i lavori risultano fermi e mancano appena 23 metri effettivamente per la conclusione dell'opera. Siamo ben a conoscenza del fatto che si sono susseguite nel corso del tempo una serie di criticità che hanno di fatto fatto slittare i tempi di anno in anno, però ad oggi insomma abbiamo questa grossa problematica, il fatto che i lavori sono fermi e non stanno proseguendo, quindi di conseguenza chiedo al sottosegretario se il Ministero intende accertare che tutte le procedure relative alle gare d'appalto e all'esecuzione del lavoro siano state svolte in maniera corretta e soprattutto i tempi previsti per la realizzazione dell'opera. Grazie Presidente. In relazione alla questione posta dall'interrogante, non rientra tra le competenze del Ministero l'accertamento del corretto svolgimento delle procedure d'appalto. Le procedure di affidamento e la gestione dei contratti pubblici si attengono alle attività delle singole stazioni appaltanti e alla sfera di responsabilità delle stesse, fatto salvo l'eventuale coinvolgimento dell'autorità nazionale anticorruzione, quale soggetto deputato a vigilare sulla corretta applicazione della vigente normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura ai sensi del decreto legislativo 50 2016. Con specifico riferimento alla realizzazione del nuovo ponte sul Ticino, la società ANAS conferma che il soggetto attuatore dell'intervento è la provincia di Pavia, la quale sta predisponendo la soluzione progettuale di variante finalizzata proprio al superamento delle criticità evidenziate dall'onorevole interrogante. E tra l'altro ringrazio l'interrogante perché questo ha permesso di dare impulso e concentrare gli sforzi del Ministero, la cui intenzione è appunto interessare ANAS affinché continui la stretta e proficua collaborazione con la provincia di Pavia per l'accelere realizzazione di queste importanti opere. Grazie. Grazie sottosegretario per il suo riscontro. Allora diciamo che siamo consapevoli del fatto che la provincia di Pavia ad essere la stazione appaltante è con lei che è direttamente competente riguardo a tutte le procedure per la realizzazione dell'opera. Tuttavia stiamo parlando comunque di un'opera che è stata finanziata per un importo molto elevato, 51 milioni di euro, mancano appena 23 metri per concludere quest'opera, quindi in un qualche modo vorrei dire non vorrei che venissero sprecati insomma questi finanziamenti. Inoltre si tratta di un'opera propedeutica per la realizzazione anche del raddoppio ferroviario, un'altra opera importante per quel territorio della linea Milano-Mortara-Alessandria, insomma parliamo di una zona regione Lombardia dove i collegamenti tra Vigevano e Milano sono molto importanti sotto questo punto di vista e parliamo di un territorio, quello della Lomellina e di Vigevano che risulta essere parecchio carente da un punto di vista infrastrutturale e questa situazione ha indubbiamente arrecato gravi danni da un punto di vista economico sia all'industria che alle aziende del territorio ma anche ad esempio i pendolari che ogni giorno quotidianamente devono recarsi a Milano, tornare indietro, quindi insomma si tratta di un'opera fondamentale e sentendo insomma la sua risposta mi fa piacere che ci sia un interesse da parte del Ministero a voler diciamo sensibilizzare le istituzioni direttamente coinvolte nel merito di questa interrogazione e ci sia la volontà insomma di cercare il più possibile di seguire tutta la procedura per concludere nei tempi celeri insomma la realizzazione di quest'opera, grazie. Grazie, interrogazione 01849, Trancassini, Camilo di...